La lepre e la tartaruga. C'era una volta una lepre molto veloce che amava vantarsi della sua velocità con gli altri animali della foresta. Sono l'animale più rapido di tutti. Nessuno può battermi in una gara, diceva con orgoglio saltando qua e là. Un giorno, mentre si vantava come al solito, una tartaruga si avvicinò e le disse. Non essere così sicura di te, lepre, potrei batterti in una gara. Tutti gli animali rimasero sballorditi. La lepre incredula scoppiò a ridere. Tu battermi in una gara? Sei così lenta che non arriveresti mai alla fine del percorso. Ma la tartaruga, calma e paziente, rispose. Non sottovalutare la mia determinazione. Facciamo una gara e vediamo chi vince. Curiosa di dimostrare quanto fosse più veloce, la lepre accettò la sfida. La gara sarebbe iniziata il giorno dopo e tutti gli animali della foresta si unirono per guardare. Il giorno della gara, la lepre scattò in avanti appena fu dato il via, correndo così velocemente che la tartaruga fu lasciata indietro di molte lunghezze. Vedendo quanto fosse avanti, la lepre decise di fermarsi sotto un albero per riposare un po'. La tartaruga è così lenta, posso permettermi di fare un pisolino? Pensò. Nel frattempo la tartaruga continuava a camminare lentamente ma con costanza, passo dopo passo. Avanzava lungo il percorso, senza mai fermarsi. La lepre si addormentò profondamente e quando si svegliò si accorse con sorpresa che la tartaruga era vicina al traguardo. Spaventata, la lepre scattò in avanti, correndo più veloce che poteva, ma era troppo tardi. La tartaruga attraversò il traguardo prima di lei. Tutti gli animali applaudirono la tartaruga, che aveva dimostrato che non è sempre la velocità a contare, ma la perseveranza. Questa fiaba insegna l'importanza della pazienza, della determinazione e del non arrendersi mai, anche quando la situazione sembra difficile.